Siamo ormai talmente a suoi fatti, non solo alla disinformazione, ma anche alla parzialità dell'informazione, che ormai non ci indigna più nulla. Anzi, riteniamo normali delle cose che sono perlomeno surreali. È accaduto qualcosa, a mio avviso, di scandaloso, ma nessuno parla di scandalo. Per tutti è una cosa normale, anzi addirittura buona informazione. A cosa mi riferisco? Beh, allora, non si è ancora votato nel 90% degli stati europei e tutte le televisioni hanno già annunciato nei loro titoli di apertura e tutti i giornali hanno già titolato in prima pagina che in Olanda avrebbero vinto i laboristi. Ma, vabbè, prima di parlare di questo, mi sembra il minimo proprio far notare che tutto ciò è folle, cioè è insensato, surreale, non so come dire. Invece nessuno fa notare questa cosa, per tutti è una cosa normale. Ma non stiamo votando per le elezioni europee, non sono chiamati al voto gli elettori dell'Unione Europea. E l'Unione Europea non è una cosa sola. Allora, perché gli inglesi e gli olandesi votano il giovedì? E perché in altri stati si voterà il sabato e in altri ancora la domenica? Ma guardate che, se ci pensate, è semplicemente una cosa assurda. In Gran Bretagna e in Olanda si vota il giovedì perché loro sono abituati a votare il giovedì. E allora, se in un altro stato dell'Unione Europea fossero abituati a votare d'autunno, anziché di primavera, noi cosa dovremmo attendere l'autunno per avere la composizione del Parlamento Europeo? Ma dov'è l'Unione? Vi chiedo, ditemelo voi, dov'è l'Unione? Vabbè, ma poi, a mio avviso, naturalmente, è ancora più scandaloso il fatto che un minuto dopo la chiusura dei seggi in Olanda, i disinformatori di professione, ossia tutti i media nazionali ed internazionali, hanno immediatamente sbandierato che in quel paese avevano vinto i laboristi. Pensateci un attimo, ma è la stessa cosa. È come se si tenessero in Italia le elezioni politiche nazionali. E che ne so, in Abruzzo si votasse di giovedì, in Piemonte e in Puglia di sabato e nelle altre regioni la domenica. E che il venerdì mattina, cioè quando tutte le altre regioni devono ancora andare al voto, venissero pubblicati su tutti i giornali che in Abruzzo ha vinto, che ne so, il Movimento 5 Stelle. Certo, sono degli exit poll, non so, ma ti vengono comunque presentati come se fossero risultati definitivi. E naturalmente ti parlano di una sconfitta dei partiti sovranisti, riferiamoci ancora all'Olanda, e di una vittoria dei laboristi, attribuendo a quest'ultimi, cioè ai laboristi, 5 seggi al Parlamento europeo, mentre i due partiti sovranisti olandesi, perché ricordiamo che in Olanda i partiti sovranisti sono due, ebbene, sempre da questi exit poll uno avrebbe preso 4 seggi e un altro un seggio. Quindi non vedo anche dove sia sta grande sconfitta dei partiti sovranisti e sta grande vittoria del partito laborista. Eppure questa è la prima notizia di tutti i giornali e di tutte le tv. E noi troviamo tutto ciò, è qui la cosa, lo troviamo normale. Ormai siamo talmente abituati alla parzialità da ritenerla normale. Vabbè dai, chiudo qua e torno per un attimo a parlare della trasmissione di ieri. Allora, dopo aver visto la puntata speciale sulle elezioni, io, dopo che voi avrete appunto visto questa puntata, vi chiedo un favore in particolare, ossia di darmi il vostro giudizio, il vostro parere, sulle domande che ho fatto ai 4 esponenti dei partiti che erano presenti in studio. Come sapete infatti non ho potuto fare la domanda all'avvocato Marco Mori per i noti fatti accaduti a Genova. Comunque, quindi in particolare, ecco, vi anticipo, la domanda diciamo provocatoria riguardante la crisi conclamata di Forza Italia, la domanda che ho fatto al rappresentante, l'esponente del PD riguardante la Grecia, la distruzione praticamente della Grecia avvenuta per avere imposto a questo Stato la stessa moneta della Germania. E poi all'esponente della Lega che ho chiesto che cosa abbiamo dovuto subire per essere entrati in questa Unione Europea. Ed infine la domanda all'esponente dei 5 Stelle sulla proposta insensata, a mio avviso, di Di Maio, di un salario minimo europeo. Insomma, ecco, sappiatemi dire voi, fatemi sapere le vostre opinioni a riguardo. E allora un buon fine settimana a tutti.